e ragazzi benvenuti in questo video video che sto registrando per la seconda volta perché mi si è stoppata la registrazione a tre minuti benvenuti in questo video perché faccio questo video perché appunto per chi non avesse visto il video l'ultimo video che ho caricato sul canale io ho scritto un libro che vuole essere una guida che si sarà utile per distinguere i minerali passi da quelli sintetici e non solo i minerali ma anche i fossili con una impolverata anche sui meteoriti ho scritto questo libro e col video uscito una settimana fa l'ho annunciato appunto ho annunciato ho detto che ho scritto questo libro vi ho detto appunto che è un libro che ho scritto per festeggiare i dieci anni di minerali extreme ma allo stesso tempo perché questo libro sarebbe uscito in concomitanza anche con un altro evento e vi ho dato qualche dettaglio e quindi perché faccio questo video per darvi degli aggiornamenti in merito e vi voglio dire che appunto il libro è stato stampato e che appunto mi arriverà domani però io perché ho deciso di registrare già oggi un video per dirvi che vi farò vedere il risultato finale e diciamo in una live che eccezionale che si terrà appunto domenica 8 settembre alle 17.30 quindi vedremo un po' il risultato finale del libro come è venuto ma sarà anche un momento in cui voi mi potrete fare qualche domanda in merito al libro so che ultimamente le live non vanno per niente sul canale però questa è una live a cui ci tengo perché appunto si parla di un qualcosa che ho creato un libro una cosa che come dicevo anche nell'altro video o comunque qualche post in cui ho pubblicizzato il libro una diciamo esperienza in cui non mi ero mai scimentato prima e quindi diciamo ci tengo a questo ma non non sarà incertata solo su questo questa live perché perché come ho detto anche prima questo libro uscirà anche in concomitanza con un altro evento ebbene io in questa live di domenica vi parlerò anche di questo evento che ancora non vi ho rivelato perché sto aspettando una conferma da appunto una persona conferma sia per scaramanzia però più che altro perché appunto vuole essere sicuro che vada tutto come deve andare in modo da poter stare tranquillo e appunto vi parlerò anche di questo evento non solo non solo perché ci sarà un altro evento di cui parlerò sempre all'interno di questa live che comporterà un video a sé stante che uscirà però più in là però me ne parlo già in modo tale comunque da già informarmi e ultimo ma non per importanza settimana prossima uscirà un video dove vi mostrerò un po' dei new entry perché appunto ho acquistato degli ultimi cioè degli altri pezzi e appunto mi arriveranno in questi giorni quindi settimana prossima ve li farò vedere con un video dedicato ma perché ne sto parlando perché lo sto nominando perché uno dei pezzi che vi farò vedere è un pezzo abbastanza particolare questo perché è un pezzo uscito sulla Mineralogical Records cioè su una rivista Mineralogical ma non italiana bensì americana quindi parliamo di un qualcosa di un pochettino più importante visto che comunque le riviste Mineralogical sono comunque un pochettino più importanti è un pezzo molto particolare ma non vi dico altro perché lo vedrete appunto all'interno di questo di questo video che uscirà e anche un altro dei pezzi all'interno di quel video sarà particolare perché è un pezzo che non mi aspettavo che un giorno abbia avuto in collezione perché avevo sempre detto no io minerale di questo tipo non ne voglio e che in realtà ho già di cui ho già parlato a dire la verità ho già parlato in uno degli ultimi video quindi già ho detto di cosa si tratta però al momento mi fermo qua in modo tale che comunque lascio un pochettino quella specie di effetto sorpresa si spera quindi io vi aspetto alla live di domenica che appunto inizierà alle 17.30 qualora non dovesse andare bene la live caricherò un video normale però io appunto ci tenevo di più alla live proprio perché appunto è un qualcosa di più particolare e niente in realtà io l'avevo programmata per il 14 però siccome il libro mi dovrebbe arrivare prima dell'eprevisto allora già questa domenica se tutto va bene ci sarà appunto questa live se volete essere avvisati basta che andate sul canale c'è già l'evento creato basta che schiacciate su avvisami e appunto volete avvisati quando la live inizierà in modo tale che non ve la perderete e niente quindi io vi ringrazio vi invito appunto a non perdere questa live e a non perdere i prossimi video lasciate un bel pollice in su come supporto al canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video alla prossima ragazzi